Avrebbe compiuto 47 anni in questi giorni Gianluca Marinelli, infermiere, collega e amico speciale, semplici parole al contempo piene di significato, quelle scelte dal personale dell'ospedale del Delta per ricordare l'infermiere della sala operatoria precocemente scomparso il primo ottobre 2022 per un male incurabile. Nel giorno del suo compleanno il personale del blocco operatorio ha voluto tenere viva la memoria di Gianluca inaugurando una targa commemorativa all'ingresso della sala operatoria. Presenti anche i genitori e la sorella di Gianluca, Sandra, Giuliano e Roberta, che commossi hanno presenziato al momento commemorativo ringraziando tutti i presenti. Comozione anche tra i colleghi come raccontato dall'amico e collega Fausto Finessi. In questa targa abbiamo cercato di riassumere un po' quello che era quello che era Gianluca, la sua pensieratezza, la sua voglia di vivere che purtroppo è venuta a mancare e tutto quello che era sul lavoro e anche per questa azienda. In sala operatoria era una colonna portante, era ma neanche giusto, è ancora, perché comunque ogni volta che c'è un problema noi pensiamo cosa avrebbe fatto Gianluca e risolviamo. Quindi per noi è ancora qua. Ci sono le sue passioni più grandi, c'è il suo lavoro, c'è la sua motto.